Preside, allora all'interno del suo istituto, intanto diciamo questo, per voi oggi è sostanzialmente il secondo giorno di scuola perché avete iniziato l'8 di gennaio, qual è la fotografia che scatta in un istituto come il suo che è numerosissimo dal punto di vista della popolazione studentesca? Dal nostro punto di vista le cose sono andate abbastanza bene perché il numero dei ragazzi positivi è abbastanza ridotto si tratta di percentuali tutto sommato ridotte, lei faccia il conto, saranno stati 60-70 alunni in didattica a distanza perché positivi o perché in quarantena su 1.650-1.700, quindi si tratta di numeri abbastanza ridotti analogamente il numero dei docenti non è così, anche loro in quarantena o positivi non è così elevato quindi noi abbiamo potuto riprendere le lezioni con relativa tranquillità poi staremo a vedere qual è il numero esponenziale a cui cresceranno i contagi ma questo è un altro paio di maniche non così la situazione per le scuole del ciclo primario perché nel ciclo primario i bambini che non sono vaccinati, addirittura poi quelli delle scuole materne non usano le mascherine, è chiaro che si contagiano e contagiano anche le maestre una situazione dunque che desta ancora molta preoccupazione e sono in molti a chiedersi dove siano finite le oltre 400.000 mascherine FFP2 che dovevano essere consegnate agli studenti proprio al rientro sui banchi di scuola e 438 sanificatori di aria che dovranno, usiamo ovviamente il futuro essere installati negli istituti superiori della provincia di Arezzo questo l'annuncio della presidente della provincia Silvia Chiassai e del suo gruppo di maggioranza con tanto di conferenza stampa lo scorso 7 gennaio giorno peraltro in cui diversi istituti erano già tornati alle elezioni in presenza ad oggi 10 gennaio nessuna mascherina è stata consegnata e dei sanificatori ancora nessuna traccia un provvedimento tardivo? beh ora non sta a me dirlo per quanto riguarda la provincia sicuramente a livello generale, a livello politico, nazionale molte cose potevano essere fatte prima perché è chiaro che qualsiasi politico deve avere anche una capacità previsionale perché le scelte che debbono essere fatte debbono essere fatte per il futuro inoltre oggi ci sono statistici, ci sono scienziati sociali, sociologi che cercano di leggere quali sono i trend e questo direi dovrebbe essere un atteggiamento che le istituzioni dovrebbero avere costantemente non sembra che ce l'abbiano dopodiché intanto è molto importante che da parte della provincia perché ora parliamo solamente della provincia è opportuno che queste mascherine vengano ed è bene che la provincia abbia compiuto un investimento di questa misura